è autunno e maga abbondanza ha raccolto tutti i frutti della natura chiede al cuoco di preparare pizza per tutti i suoi amici e celebrare con loro la festa dell'abbondanza ma in quel momento arriva minacciosa maga cornacchia aspetta il tuo turno grida diva ma ignorando tutti maga cornacchia dà un morso ad ogni tipo di pizza ma così non resterà nulla per gli altri protesta pio non me ne piace neanche una quanto spreco si lamenta portatile ma improvvisamente scivolando su un pezzo di pizza che lei stessa aveva gettato via maga cornacchia si è rotta una zampa così maga abbondanza organizza una festa di pronta guarigione a maga cornacchia che ha imparato a sue spese che non si deve sprecare il cibo anche questa volta avete ragione accidenti a voi